È difficile perché andiamo a incontrare una buona squadra, però se giochiamo come sappiamo possiamo vincere contro chiunque e quindi la speranza è quella, quello di fare bene di giocare come sappiamo, al di là di poi che possa essere io protagonista, fare gol o qualcun altro l'importante è che la squadra vada avanti in Coppa UEFA, vogliamo comunque continuare a dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi e dare delle gioie, quindi è una cosa che proprio tutta la squadra deve pensare positivo deve pensare bene, deve pensare che come ho detto prima qua, anche se è difficile, ripeto, ma il risultato possiamo fare Io non penso che uno scende in campo e scende per sottovalutare l'avversario, io non ci credo a questa cosa perché anche se vai a incontrare una squadra magari meno forte della tua, non puoi scendere in campo e pensare di vincere facile, almeno adesso il calcio è così, quindi non penso ci sia stata sottovalutazione c'è stato, secondo me alcuni momenti della partita, loro erano fisicamente molto, stavano fisicamente molto meglio di noi infatti arrivavano primi su tutti i palloni, abbiamo sofferto forse questo e comunque abbiamo creato anche tanto io primo tempo se facevamo due o tre gol non c'è niente da dire, quindi penso che abbiamo fatto non una partita straordinaria, però siamo stati nella gara, loro sono più amanti di noi di condizione e questa settimana spero che ci ha aiutato un po' per recuperare sia fisicamente che mentalmente per domani grazie a tutti